bisogna girare lì in mezzo a quei due sassi il rischio è un po' non è un po' non è un po' non è un po' non è un po' bisogna girare dietro il sasso il sasso Oh! Oh! Bello! Bello! Tirata fuori coi denti, cazzo! si e ho sbagliato lì e riesce a girare malparata lo prendi dove c'è il birillo giallo che rimani più in là che dopo te la tiri di qua dipende poi ma il stesso è vero johnny non ci sono gialle così no no secondo me questo sasso la non c'è nei verdi nei verdi si concentrato luigi vai 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 via ma io non vado l'antichilato una delle ultime volte a guardare l'antichilato è bella bella adesso voglio provare a vedere prima ho sbagliato lì ho sbagliato lì bella si fa si fa bella bella hai fatto bene anche il tronchetto che hai preso il cento sotto sì è via ... ... ... ... ... Grazie a tutti.